Niente reti nei primi 90 minuti e verdetto finale rimandato alla partita di ritorno. Finisce 0-0 sul sintetico del vicino di Gravina il primo round tra Nuova Spinazzola, Unione e Calcio Biceglie, gara d'andata del secondo turno di Coppa Italia di Lettanti. Il secondo, quello decisivo, è in programma giovedì 19 ottobre sul sintetico bicegliese del Diliddo. Le emozioni non mancano, ma non sono nemmeno tantissime. Padroni di casa in maglia nera che ci provano sul calcio di punizione con Dentamaro solletico per Giovanni Lullo. Pasticciano in fase difensiva gli ospiti, ma Albano non ne approfitta e trova la replica, questa volta con il piedone dell'estremo dei bicegliesi. La reazione dell'Unione Calcio, amoroso dalla destra, cerca ma non trova di palma solo corner per gli uomini di Angelo Monopoli e 0-0 all'intervallo. Buona chance, a metà ripresa per l'Unione Entrato Zinetti, servito col tacco da amoroso, conclusione però debole e prevedibile. La migliore occasione di tutto l'incontro capita dalla parte opposta ad un altro in entrato, la Dogana che spreca tutto solo davanti a loro. La chance per il vantaggio dello Spilazzola, ancora bravissimo. Il portiere dell'Unione, bravo dalla parte opposta, anche la greca, attento sulla soluzione incrociata di amoroso sui sviluppi dello stesso corner. E Monopoli di testa, mancare una clamorosa opportunità per andare a segno. Fioccano le occasioni, ma si resta sullo 0-0 anche quando Zinetti va via sulla corsia Mancina Pennella per la testa del mio entrato Binetti. Palla sul fondo, altro giro, altra, incredibile chance, questa volta dalla parte opposta, ma Ariani, grazie a così i bicegliesi. Finisce senza reti a gravine, appuntamento per la Coppa Italia di Lettanti a tra due settimane al di Lido. Domenica invece torna il campionato di eccellenza, Unione Calcio, secondo in classifica nel gironea, in trasferta contro il Polimnia. Spinazzola in casa, sempre a gravina, con il Borgo Rosso Molfetta.